Benvenuti a questo nuovo video dove vedremo la simulazione del processo di carica e scarica di un condensatore in un circuito RC in funzione del tempo. Questa simulazione è stata realizzata e creata con il software Labideo. Come potete vedere nel disegno questo è il nostro circuitino con il condensatore e la resistenza e ovviamente la posizione di scarica o carica del condensatore e la sua alimentazione. Nella prossima diapositiva potremo vedere come è stato realizzato il programma attraverso Labview. Vediamo che ci sono diversi componenti. Adesso andremo a vedere direttamente il funzionamento con Labview. Eccolo qui, è uguale a dentro e quello stesso ovviamente. Abbiamo quattro selettori per impostare il tempo, visto che facciamo la simulazione in base al tempo. Un altro ci servirà di impostare la tensione, l'altro la capacità e l'altro la resistenza. I risultati che otteniamo possono essere visualizzati su questo grafico dove possiamo vedere la carica o possiamo vedere la scarica del condensatore e possiamo vedere anche ovviamente i risultati del regime transitorio per il 63%, questo in volt, il regime transitorio 5R per C in secondi, in microsecondi, la costante del tempo tau R per C in microsecondi e la costante del tempo in microsecondi. Andiamo a vedere se vado a cambiare il valore del tempo. Si può notare che cambia la curva di scarica, ma ovviamente anche la curva della carica. E qui troviamo i nostri valori. I nostri valori dove dice che la tensione massima è 11,86, non 12, è quella minima 0. Se vado ad aumentare il tempo in microsecondi, oppure se cambiamo la capacità del condensatore, ovviamente a 0 possiamo vedere come cambia la nostra curva e ovviamente cambiano tutti i valori. In questo modo possiamo studiare il funzionamento del condensatore sia in fase di carica che in fase di scarica. Il software è completo con delle informazioni teoriche sia in italiano che in inglese, dove se vado a cliccare su info in italiano, viene fuori una piccola descrizione della lezione su cos'è il processo di carica, di scarica e del condensatore. Quindi troviamo il cosiddetto regime transitorio caratterizzato dalla variabilità col tempo della grandezza in gioco. Una serie di informazioni che possono servire per chi si imbattesse in un programmino come questo, ma fosse poco ferrato per quanto riguarda la parte teorica basilare della carica o della scarica di un condensatore. Ovviamente cliccando ok chiudo, oppure vado a leggere le stesse informazioni in inglese. Mentre Exit Program mi permette di uscire dal programma. Grazie per la visione, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto cliccate sul mi piace. E se volete iscrivervi al mio canale fate pure perché troverete molte altre video interessanti. Spero che vi sia piaciuto questo. Arrivederci.